ciao a tutti ragazzi io sono francesco Bunga57 ragazzi non ci fate caso i messaggi oggi faremo uno scherzo a Jotix in cui ti diremo questa parola guardate non ci fate caso i messaggi di una cosa ragazzi io vorrei dire che i paresi mi stanno un po molto antipatici vorrei dire questa ragazzi voglio vedere se se la prende a me ragazzi non ci fate caso i messaggi stanno solo stavo scherzando raga 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 antipatici di quello che è successo offendere ma non voglio offendere ma raga raga capace che se la prende raga qua stanno in via messaggi raga dai ti diciamo che è uno scherzo se no se la prende eh vabbè era uno scherzo era uno scherzo che non permette uno scherzo se no mi stanno antipatici davvero mi stanno antipatici io mi stanno antipatici mi stanno antipatici noi terminiamo il video il video termina qua e alla prossima